Benvenuti all'appuntamento con la nostra rassegna stampa, il nostro Tg Mattino, il Corriere dell'Umbria, la nazione, il messaggero, i quotidiani che prendiamo in esame anche questa mattina, apriamo subito la nostra rassegna stampa con il Corriere dell'Umbria, esplode bomba, è gravissima, parliamo da Spoleto di questa notizia, un incidente allo stabilimento militare di Baiano, una 24enne è in prognosi riservata. La notizia poi con la quale abbiamo aperto il nostro Tg Provincia di ieri sera, Norcia che rialza la stesta con questa giornata indimenticabile, riaperti l'asilo e parzialmente la zona rossa, è stata messa in sicurezza la facciata della Basilica, che è stata chiamata questa ingabbiatura, con tubi innocenti per cercare quindi di proteggerla il più possibile in attesa dell'inizio dei lavori di sistemazione. La notizia purtroppo la conferma dalla strage di Berlino dai mercatini, tra le vittime c'è l'italiana scomparsa. Andiamo a vedere poi un'altra notizia che da giorni è sui quotidiani, naturalmente la venduta alla Novelli che passa al gruppo greco e svolta al Ministero garantite prospettive future alle aziende e continuità nei rapporti di lavoro, ceduta pure la Tagina. Le notizie di richiami che troviamo, tenta di rapinare una ventenne in piazza Umbria Gess a Perugia, poi azienda metalmeccanica riparte e assume 30 disoccupati, la notizia arriva da Gualdo Tadino. Richiami di sport per le gare di oggi, anche quelle giocate ieri. Oggi alle 14.30 il Gubbio ha il Barbetti contro il Pordenone, Maggi dà la carica. Grifo Bianchi allontana la febbre e in Serie B tocca a Duganzic nelle fere. Per la pallavolo ieri sera una Sire strepitosa in Champions e ha battuto il Rusler, una squadra molto forte belga, per 3-0 ed è stato firmato un accordo triennale con coach Lorenzo Bernardi. Minister Secolo, questo dalla prima pagina di Corriere dell'Umbria, poi naturalmente approfondiremo tutte queste notizie. Andiamo con la pagina regionale della Nazione, esplode una bomba gravissima, un'operaia, un incidente durante l'assemblaggio di un ordigno a Baiano, la ferita a 24 anni. Nessuna resa questa fotonotizia da Norcia, il giorno della speranza dopo il terribile terremoto, una grande gabbia ora protegge dai crolli la facciata della Basilica, grande festa per la parziale riapertura del centro storico, taglio del nastro della nuova scuola che ospiterà i bambini. L'attitante arrestato, stop ai soldi, sequestro alla frontiera, poi antiterrorismo comuni in prima linea, misure per la viabilità, tutti gli eventi dovranno essere autorizzati. Per le feste è arrivato il maxibacio, il marketing di Nestlé perugina, e poi i bimbi e lo smog fanno più male, fumo e cibi errati, lo studio presentato dall'Università. La prima pagina del messaggero, doping con la farmacia di papà, rete per acquistare farmaci da rivendere per palestre e gare dagli steroidi ai medicinali ormonali, usati per curare i tumori. Trovate anche ricette mediche rubate, ora in nove rischiano il processo. Esplode la bomba a mano, operaia ventenne, gravissima tragedia nello stabilimento di Baiano, era il suo ultimo giorno di lavoro. Pranzo di Natale all'insegna dei prodotti tipici locali, per il pranzo di Natale piacciono i prodotti tipici locali, quindi si parla della spesa sotto l'albero. E ancora Pietra Melina, l'ultimo intoppo, per gli scarti serve un'altra discarica. Si parla poi del meteo, come tutti i giorni nella prima pagina regionale del messaggero, attenti alla nebbia, una settimana di tempo stabile, con festività che in Umbria avranno tempo soleggiato e temperatura relativamente miti. L'unico problema resta quello delle nebbie, che potrebbero essere intense proprio nel weekend, con clima rigido nelle vallate, dove la nebbia non consentirà al sole di scaldare i bassi strati. Questo per il messaggero, la prima pagina regionale. Andiamo all'interno del Corriere dell'Umbria, La rinascita di Norcia, tra asilo e corso riaperto, taglio del nastro per la nuova scuola materna, riaperta seppur parzialmente la zona rossa. E quindi è nel Caritas e mondo della scuola un incoraggiante inno alla solidarietà e aziende danneggiate dal sisma le regole per spostarle. Si parla, poi abbiamo realizzato un nostro servizio ieri sera nel Tg Provincia, proprio su questo argomento drammatico, gli incidenti mortali in vertiginosa crescita in Umbria. Killer, la distrazione. Un rapporto dell'ACI sugli allarmati dati del 2015. Campi, presidente dell'ACI di Perugia. Quest'anno la situazione è migliorata. Bartolini, dalla regione vogliamo un piano straordinario di interventi per sistemare le strade. Si parla, poi, di 5 milioni per viabilità ed edifici scolastici. I fatti del giorno. La provincia di Perugia prova il bilancio, le destinazioni dei soldi ricavati da un'alienazione. C'è poi la pagina dedicata al weekend con le tante iniziative e tanti appuntamenti in ogni angolo della nostra regione, occasione più che ghiotte per residenti e turisti. Si almo ormai Natale, fioccano le iniziative. E la noia vola via. Da non perdere, tanti appuntamenti, tutti a Gubbio, Deruta, Eterni e Babbo Natale, di Babbo Natale in Babbo Natale. Ricordiamo, quindi, grandi apportamenti, l'albero più grande del mondo a Gubbio, l'albero in ceramica a Deruta, la stella cometa del Miranda sopra Terni, ma ricordiamo anche il Babbo Natale in Canoa, a città di Castello, sul Tevere. Tornano i presepi e festa grande in tutta l'Umbria. Dalle scuole più rinomate e tradizionali all'inventiva dei ragazzi, prendono forme e espressioni artistiche di grande suggestione. Ricordiamo anche la mostra internazionale di arte presepiale fino al 6 gennaio nella basilica inferiore di città di Castello. La pagina dell'economia, sempre dal Corriere dell'Umbria, Novelli, venduta l'azienda, passa al gruppo greco, ieri la svolta al Ministero, posti tutti salvi, garantita la continuità. La tagina passa di mano, opzione d'acquisto da parte del Mandarin Serit. Si parla poi di cultura, Warhol e Controgartel, la pop art a Spoleto. Andiamo a dare un'occhiata alla cronaca, quindi dalle pagine di Perugia del Corriere dell'Umbria. Il Cardinale Bassetti, nei luoghi della sofferenza, visita a Santa Maria della Misericordia, dopo l'ammessa toccante incontro con i bambini, le mamme presenti nell'unità di terapia intensiva neonatale. Al vaglio alla sicurezza degli eventi di piazza e dei centri commerciali, allerta terrorismo, l'Unione Tecnica e Questura, in tutta la provincia vanno studiati i piani per Natale, capodanno sicuri. Gli alunni di Perugia sono meno inquinanti inquinanti rispetto ad altre città. Uno studio sui fattori a rischio ci mette al terzo posto su cinque aree indagate, polvere sottili, attenzione a sistemi di riscaldamento più che alle auto. Bomboniere al bacio dall'incontro tra Bindocci e Lazzari viene alla luce un'originale linea di ricordini pensata tra arte e artigianato, il lancio a Umbria Sposi. Questo per il Corriere dell'Umbria che ritroveremo tra poco con le pagine che approfondiremo, nei territori che approfondiremo. Il grande abbraccio, ora una gabbia protegge la Basilica, la Nazione, riaperto il centro, Marini, segni di rinascita. Ieri anche la Presidente a Norcia per questa riapertura parziale dell'area rossa di Norcia. Risorge anche la Scuola di Norcia, un altro simbolo di normalità, prefabbricato in legno, antisismico, ospiterà 50 piccoli alunni. Intanto Castelluccio raccolta fondi per far ripartire il borgo, diremmo lo splendido borgo di Castelluccio di Norcia. L'attitante arrestato alla frontiera, la Procura Generale blocca i soldi. Un trafficante di droga aveva 12.500 euro in una valigetta. Terrorismo si alza l'allerta, i comuni saranno difensori, i vertici in questura, gli eventi dovranno essere autorizzati. Soldi per recuperare i cinema storici, Lex Lilli non perda l'occasione. Roscini, nuovi guai giudiziari a processo per il caso code, per bancarotta fraudolente, l'accusano i confronti dell'imprenditore. Bimbi, famiglie, peggio dello sbog, più danni da fumo passivo e cibo. Studio dell'Ateneo su 223 piccoli, polveri sottili, Perugia è nella norma. Questo per la nazione. Andiamo all'interno del messaggero. Aria quasi pulita, lo dice una ricerca sui bambini. L'Università di Perugia ha partecipato a questo studio che dicevamo in precedenza. Da 2 milioni e mezzo di euro il lavoro è durato 3 anni. Fuoco al capanno per l'Ite Travicini, qui storie di cronaca. Poi due associazioni unite per battere il cancro, iniziativa comune di AUCC e IACAT per spingere i comportamenti contro l'inquinamento. E ancora il doping con la farmacia di papà, giro di medicine per gonfiare i muscoli usate nelle gare di bodybuilding e nelle palestre, nei guai non solo atleti. L'indagine dei carabinieri del NAS, le indagini coinvolgono anche un farmacista, un commerciante e un campione. Pietra Melina in top sugli scarti, blocca tutto, il compostaggio non riapre scandalo di rifiuti, non risponde la magistratura. ACI, strade pericolose, aumentano i morti, l'appello abbiamo bisogno dell'aiuto delle istituzioni per poter lavorare verso l'obiettivo comune della sicurezza. Nel nostro Tg di ieri sera all'intervista con il Presidente regionale, il Presidente di Perugia di ACI. Questo per il messaggero che adesso ritroveremo tra poco anche con le pagine che andiamo ad analizzare all'interno dei quotidiani. Riapriamo il nostro giro naturalmente con il Corriere dell'Umbria. La pagina di Assisi e Bastia Umbra. Pranzo per i poveri nel ricordo del Tillo. Sull'identità vera anche alla Casa di Riposo. Domani iniziativa è data dal compianto Carlo Angeletti, donazione delle donne dello Spicigielle alla Rossi. definiti il bilancio di previsione, il piano delle opere pubbliche intanto a Bastia Umbra. La pagina di Città di Castello, corsi di formazione, si punta sulla ristorazione e settore della bellezza. Il centro Bufalini dà la rivedercia edilizia e mobile legno in fase di progettazione e lezioni in grafica multimediale. Furti nei negozi, nazione con una coppia in stile Bonnie e Clyde. E ancora la mostra dedicata a Burri, un vero successo. Agli ex seccatoi si allungano gli orari di apertura. Giornate di apertura anche durante le festività. Numerose prenotazioni arrivano da scolareschi e gruppi. e vediamo infatti le scuole in visita. Ci sono stati tantissimi ragazzi che hanno ammirato le opere del maestro Alberto Burri in questa mostra e tra poco dove sorgerà il terzo Museo Burri, quello dedicato alla grafica. Intanto è tutto pronto per il concorso Save Energy a Dumbertide con IMET. Da Gubbio finalmente il parcheggio. Nuovi spazi a San Pietro dopo anni di attesa e vicende legali. E' stata inaugurata la struttura pubblica che dispone di 110 posti auto gratuiti. Mercatino e tanto altro per alietare le feste. I turisti tornano in città attratti dall'albero più grande del mondo. Ma c'è molto di più da vedere. Da Gualdo Tadino disoccupazione addio. Azienda controcorrente assume 30 operai. La De Martino officine punterà su elettrodomestici e automotive. La manager ricostruiremo prospettive industriali e umane. Intanto lo scatto di Catullo tra i più belli del 2016. Un nuovo riconoscimento per la foto Assisi over the clothes da Drone Starg e My Modern Meet. La pagina di Foligno. Orti e Orfini nel mirino dei Vandali. Ancora incursioni e danneggiamenti al parco. Prese assassate le vetrate della struttura adibita a bar. Intanto sfavillanti i costumi strappano applausi. Epoche in passerella. La Quintana si conferma al vertice delle manifestazioni storiche italiane. Via rush finale per la corsa a regalo. Gli acquisti registrano una neve flessione. Il bilancio per ora non appare entusiasmante. Si tende a risparmio cercando comunque la qualità. E come dicevamo esplode la bomba. Gravissimo. Una ragazza ha spoleto l'incidente allo stabilimento militare di Baiano. Durante alcune lavorazioni. Lavorazioni è scattata una doppia indagine. Corriere dell'Umbria che rivedremo tra poco con le pagine dedicate allo sport. Andiamo avanti con la Nazione. La pagina di Assisi e Bastia. Rocca maggiore, rocca minore. I restauri sono addirittura d'arrivo. Assisi, lavori di consolidamento con i fondi del Sisma 97. E poi ancora, ma allora il conducente autobus di linea finisce fuori strada. È accaduto ad Assisi. La pagina di Gubbio. Che bella sorpresa sotto l'albero. Un parcheggio nuovo di Zecca. Gubbio inaugurato un altro piano. Cento posti auto a San Pietro. La struttura consente un accesso più facile attraverso gli ascensori. Ex Merlonia. Non c'era Umbra. Per i lavoratori sarà un Natale di ansia. Il segretario della FIOM Cigiella. In futuro è ancora tutto da scrivere. La pagina di Città di Castello. Che apre con una notizia che arriva da Sansepolcro e San Giustino. Katia, nuova svolta nell'indagine. Una perizia psichiatrica su Peter. Delitto dettorrente effettuata dal consulente nominato dalla difesa. Ricorderete l'omicidio della porra vera Katia Dello Marino di Sansepolcro. Quindi la vicenda che ancora va avanti con l'arresto che è stato effettuato il 16 settembre di Peter Polverini. Andiamo avanti. Torna il concorso Save Energy a Dumberdi. Da promuoverlo l'azienda IMET. Ancora da Città di Castello. Grazie alla sanità pubblica. Nostro figlio così può curarsi. Parlano i genitori di un disabile grave. Cui servono farmaci rari. La terapia non convenzionale sta dando risultati e speranza. Segnali positivi. E poi a Città di Castello. In rosa l'arma dei carabinieri è arrivata Sabrina Agresti. Quindi un carabiniere in servizio a Città di Castello. Una donna e naturalmente siamo tutti felici di vedere anche una divisa di carabinieri in rosa. A Foligno. Camion in fila davanti alla discarica. Ore di coda prima di scaricare i rifiuti. Lega Ambiente chiede lumi. Si perde tempo e si rallenta il servizio. Questo per la Nazione. Andiamo all'interno del messaggero con Gubbio. Un piano per il quartiere di San Pietro. Il sindaco ha previsto un programma di interventi da 87 mila euro. Stabilito anche il rifacimento della pavimentazione di via Concioli. L'obiettivo investimento per recuperare l'edificio del mattatoio è dismesso da anni e tenuto in uno stato di completo abbandono. Castello, ladri scatenati nei negozi del centro storico. E poi andiamo con le pagine di Foligno. Sorpresa che vedremo nella pagina sportiva poi. Unione civile, stesse tariffe dei matrimoni. Poi summit in comune sull'occupazione a Nocera Umbra. Nigeriani bloccano rapinatore. Grande esempio di senso civico è avvenuto a Foligno. maggioranza in conclavi intanto sul futuro del Fils. E poi naturalmente vedremo l'altra notizia riguardante lo sport, speriamo positiva, da Foligno. Noi ci fermiamo solamente per qualche spot pubblicitario. Torneremo subito dopo con le pagine sportive. A tra poco.